Un saluto a tutti voi. Meditazione e interiorità è il titolo del percorso che abbiamo iniziato e che vogliamo proporre a tutti col quale raggiungere un obiettivo ben preciso, educare la coscienza. Una meta esigente che intendiamo raggiungere approfondendo il tema della relazione tra la meditazione e l'interiorità umana. Grazie al testo di Dante Morando dal titolo Studi sulla meditazione e sul suo valore psicopedagogico, che fa da riferimento alle nostre riflessioni, abbiamo visto il rapporto tra la meditazione e l'uomo moderno, indicato soprattutto nel rifiuto di utilizzare lo strumento della meditazione e il preferire l'attivismo, l'agitazione esteriore, come afferma Pascal, e il divertimento proprio per non pensare a se stesso e così annullare l'attenzione dal proprio io. In tempi più vicini a noi è la logica della frammentazione, secondo il sociologo Mauro Magatti, in Libertà Immaginaria, che ostacola l'attività della meditazione. Tutto si scioglie, significati, legame, individualità. In questa luce la vita umana è vista prima di tutto come una lotta di significati. È dalla società liquida prospettata e analizzata da Zikmunt Mauban che emerge la questione cruciale, l'erosione, l'indebolimento e la dispersione dell'interiorità. L'attività meditativa è così resa ancora più difficile, ma allo stesso tempo urgente e necessaria. Continuiamo quindi il nostro percorso e andiamo al cuore della condizione dell'uomo in relazione al valore della meditazione. È sempre il Morando che ci ricorda che chi è serenamente lucido e ironico, anche nei propri riguardi, saldo nella consapevolezza delle sue deficienze e delle sue possibilità, trova nella meditazione un valido conforto e sa diventare, mediante il ripensamento che essa comporta, concorde e discorde con il proprio destino. L'uomo è così capace di guardare e accettare tutto ciò che c'è di positivo e negativo nella vita, sa accogliere attivamente e non passivamente ogni situazione. Verso se stesso non è intollerante e non ha rimpianti, sa essere ad un tempo realisticamente attaccato e distaccato da sé. È la meditazione, sostiene il Morando, che lo rende compagno a sé stesso, a non allontanarsi o sottrarsi dalle proprie responsabilità, a non disperdersi, a non abbandonarsi al fluire della vita senza significato. E proprio notiamo qui, su queste parole, il contrasto con quanto abbiamo analizzato a riguardo degli effetti della logica della frammentazione contemporane. È la meditazione che abitua l'uomo a diventare persona cosciente, non disperata né rassegnata di fronte al male e alle falsità del mondo. Pertanto la meditazione è lo strumento per acquisire dominio di sé, consapevolezza e autocontrollo. Il fatto è, afferma Morando, che senza la meditazione l'uomo puramente attivo e dinamico, è diventato l'uomo macchina, proiettato verso l'esteriorità. L'uomo alienato nel e dal lavoro, in riferimento a Marx. L'uomo cosa, creato esclusivamente per la produzione, dove però libertà, coscienza e volontà risultano addirittura un ostacolo all'obiettivo unico del produrre. Ebbene, in questo contesto, alla meglio, l'uomo che dà spettacolo, in quanto proteso all'azione e dietro al movimento esteriore. All'agitazione si nasconde la carenza di intimità e di ricchezza di vita interiore. Questo perché, senza la meditazione individuale, la vita diventa arida, un passivo adagiarsi al flusso degli eventi, delle volontà e dei progetti degli altri. Avendo voluto diventare re dell'universo, l'uomo, in effetti, ha dato le sue dimissioni da uomo. Questa frase tragica. E sul modello baconiano, l'uomo negli ultimi secoli, ha badato alla conquista del mondo esteriore. Jules Peyot, pedagogista e filosofo francese, vissuto a cavallo tra l'ottocento e il novecento, è autore di un famoso libro dal titolo L'Education della Volontè. Pubblicato nel 1895, in più di 32 edizioni, egli sostiene che la ricerca dell'esteriorità rende l'uomo inquieto e infelice. Le motivazioni di questo sono date dall'incapacità da parte dell'uomo di avere una chiara visione di se stesso e di non impegnarsi in un'azione meditativa. Peyot afferma, le conquiste esteriori hanno distolto la nostra attenzione dai miglioramenti interiori. Abbiamo lasciato da parte l'opera essenziale, l'educazione della volontà. Abbiamo così, con un'aberrazione inconcepibile, lasciato al caso la cura di temprare lo strumento per eccellenza della nostra potenza intellettuale e della nostra felicità. La meditazione, sempre secondo il nostro Morando, è concentrazione, sintesi, forza centripeta, armonia, disciplina, unità. Al contrario, l'assenza del meditare conduce alla disperazione, all'analisi, al prevalere delle forze centrifughi, all'esteriorità, alla disarmonia, all'individualismo. Nell'umanità scarseggia la meditazione e molti ne sono gli esempi, come ad esempio nel Don Giovanni di Kierkegaard, in cui domina l'istante, il piacere, il profitto, l'interesse, l'egoismo. In questo contesto non esiste più l'umanità, bensì solo la massa esiste la folla. La rinuncia, ecco qui il problema, la rinuncia alla disciplina interiore che passa attraverso la meditazione, mette fuori moda moralità e virtù. In quanto quest'ultima, quindi la virtù, significa coerenza e consuetudine di vita nel tempo. Parlare di valore, parlare di valori come onore, temperanza, responsabilità, purezza, amor del prossimo o amor di patria, a chi non ha mai avuto interesse e gusto per la meditazione, significa dire parole vuote o addirittura senza senso. Ma è sempre il Morando, che in questa luce indica come la rinuncia alla meditazione produce la disgregazione intellettuale e morale dell'io. E, attenzione, e la disgregazione dell'io procede di pari passo con la disgregazione delle famiglie e della società. Proprio in questo senso, l'uomo moderno non ha più un punto fisso. Tutto diventa problema e viene letto entro la dimensione della crisi, crisi politica, crisi economica, crisi educativa, crisi sociale, crisi della fede. Di fronte a questa condizione l'uomo vuole essere libero da tutto e l'eredità del passato è considerata superata e la libertà stessa di coscienza diventa libertà di disobbedire a tutte le leggi. Così la libertà si è trasformata in licenza. Questo, attenzione, il giudizio del Morando, nell'illusione di diventare superuomo si è dissolto nel sottouomo. Incapace di governarsi va incontro facilmente a tare fisiche contrae abitudini malsane. La sua attenzione sfarfalleggia qua e là. I suoi giudizi sono superficiali. La sua azione indulge e l'irresponsabilità morale. La sua vita si è fatta piena di pericoli, senza giustificazioni, senza scopo e senza perché. A fronte di questa drammatica situazione, per evitare la dissoluzione del regnum hominis e così salvare almeno ciò che esiste di più significativo e di più valido, il Morando ha una proposta precisa. Dice, ci sembra necessario e urgente riesaminare alla luce delle moderne esigenze il vecchio problema della meditazione e metterne in evidenza particolare il valore psicologico e pedagogico nella vita attuale. Questo è anche il nostro obiettivo, come già indicato, poiché il ritmo del vivere è veloce ed estremamente attivo. È necessario impedire allora la caduta nella dispersione. Occorre una guida, occorre un regolamento che non possono essere inventati, chiaramente, ma bisogna pensarci su, attraverso un rientro in se stessi, vale a dire mediante la meditazione. Ed è proprio in questo senso. Il tema della meditazione, così apparentemente in attuale, ha un'indubbia urgenza e attualità, poiché se si vuole salvare la vita dal dissolvimento, non c'è che fare appello ad una maggior disciplina, appunto generata dalla meditazione. Per questo motivo la proposta di ciò che noi vogliamo fare è appunto affrontare la meditazione, proprio quale strumento attraverso quale evitare il dissolvimento della persona, dell'io, proprio perché la persona sia padrona di se stessa, capace di vivere e utilizzare la sua libertà in funzione delle sue scelte. Grazie.